All'indomani della tragedia di Ancona mette i brividi, ripescare da nostri archivi le immagini di un anno fa in capannina. Era proprio durante le feste natalizie, quando qualcuno spruzzò in pista lo spray al peperoncino. E come vedete dalle immagini girate dal nostro operatore quella notte, furono in molti a dover ricorrere anche alle cure del pronto soccorso per problemi respiratori. Ma fortunatamente, vista anche la sicurezza, non accadde niente. E' il patron guidi, che proprio per il dispiacere non se la sente di parlare ai nostri microfoni. Ci dice il popolo della notte è cambiato, bisogna tenere altri controlli. Della stessa opinione, il gestore della bussola domani, l'altro locale storico della Versilia, dove negli anni si è sviluppata la cultura del divertimento e che ci mette in evidenza. Come le norme esistano già e che basta applicarle in primis. Le tante uscite di sicurezza e chiede ai legislatori di non prendere decisioni di pancia. Questo spero che non avvenga, perché il mondo della discoteca non è solo legato a degli eventi come quelli, che sono eventi straordinari. Chiaramente si parla anche dello spray, no? Ma quello se lo trovate cosa fate? C'è sempre qualcuno che lo utilizza in maniera impropria, quindi da strumento di difesa è diventato strumento di offesa. Sempre in una discoteca tipo questa, sia veloce l'evacuazione all'esterno, se dovesse succedere mi auguro di no. Altro tema sollevato, quello dei bodyguard. In grado di professionali, perché ci sono persone che non sono professionali, vengono prese persone improvvisate. Noi abbiamo anche il metal detector, che chiaramente non viene utilizzato in tutti i casi, però nei casi dubbi viene utilizzato. È chiaro che anche la persona che ha l'ingresso, che fa il cosiddetto selezionatore, deve stare molto attento. Poi le persone sono imprevedibili, no? Anche la persona che magari, come abbigliamento, come atteggiamento, sembra la persona più nogua di questo mondo, poi magari in un momento di follia si trasforma in qualcosa che magari non le appartiene di regola. Grazie a tutti.